Sono 78 gli indebiti percettori del reddito di cittadinanza segnalati dalla Guardia di Finanze di Catania e alla Procura della Repubblica Etnea. Il beneficio incassato è di oltre 1,2 milioni di euro. In particolare i militari sono riusciti ad individuare una platea di persone che presentavano notevoli criticità sul possesso dei requisiti necessari per avere riconosciuto il reddito di cittadinanza, tra cui anche condanne per gravi reati. Tra i controllati non mancavano i giocatori d'azzardo online. Uno di loro aveva realizzato vincite per oltre mezzo milione di euro. Numerosi beneficiari di motocicli, auto di grossa cilindrata, nonché immobili di pregio. Tra questi spiccava un proprietario di ben quattro appartamenti, un magazzino e un'auto rimessa, un'ereditiere di quasi 400 mila euro in valori mobiliari e immobiliari che ha omesso, tra l'altro, di comunicare l'esercizio di un'attività commerciale da parte del congiunto. Una persona cancellata all'anagrafe della popolazione residente insieme a diversi lavoratori in nero. Gli indebiti percettori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, oltre che segnalati all'Inps, per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate. Grazie.